Musica Bentornati con le previsioni a cura di Meteo One. Una vasta depressione di origine atlantica ha portato forti precipitazioni lungo la nostra penisola. Nei prossimi giorni la depressione protardice di maltempo andrà esaurendosi in sede mediterranea e un debole promontorio anticiclonico riporterà il bel tempo ovunque da domenica 27. Ma attenzione, dalla prossima settimana è previsto l'arrivo di aria fredda di origine artica con le temperature in drastico calo nei valori pienamente invernali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per le nostre regioni per sabato 26 novembre. Il maltempo è arrivato in queste ore e porterà ancora a precipitazioni sparse sulla Puglia centro-meridonale. Precipitazioni più intense si potranno avere al primo mattino ancora sul Salento. Tempo in miglioramento a partita dal pomeriggio sera. Per quanto riguarda le temperature, in calo di 1-2 gradi, sia nelle massime che nelle minime. Venti deboli e variabili. Per quanto riguarda invece i mari, mosso il Canal d'Otrato, da poco mosso, a calmo, lo Ionio. Ma ora andiamo a vedere la nostra consigliata foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Jonathan Fiorita, da copertino nel Cise, che ci mostra la nebbia nelle campagne del Salento alle prime ore dell'alba. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MetiOne e Teleappola, oppure le mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.